Una decisione immediata. Il Tarmolise ha respinto il ricorso d'urgenza presentato come cittadini dal sindaco Francesco Roberti ed i consiglieri di maggioranza contro le sospensioni dell'unità operativa di emodinamica dell'ospedale Santimotio. Accogliendo l'istanza, secondo i giudici, ci sarebbe stato un dirottamento dei medici in servizio presso altri ospedali. Il trasferimento di risorse al Santimotio avrebbe comportato un pericolo per i reparti simili degli altri presidi ospedalieri, come quello di Sernia. L'ulteriore decisione del Tarmolise, dichiara Nicola Felice del comitato Santimotio, ci porta ancora e con estrema forza a chiedere alla direzione generale dell'ASREM le motivazioni che non consentono il trasferimento momentaneo di cardiologi emodinamisti dal Cardarelli al Santimotio, considerato che per Campobasso e area centrale del Molise è disponibile l'emodinamica del gemelli Molise convenzionata. Questa, riteniamo da sempre, sia la soluzione opportuna, conclude Felice, per garantire anche al Santimotio il servizio continuo di emodinamica, evitando disservirsi e ulteriori sciagure già avvenuto nel recente passato. Bisogna aspettare la Camera di Consiglio del 12 gennaio 2022. Fino ad allora il reparto di emodinamica a Termoli funzionerà a singhiozzo con 70 ore scoperte. Grazie.